Sì, vamo! Andiamo! E dai, cazzo! Sì! Così vi volevo, cazzarola! Grandissima prestazione, grandissime giocate e cose giuste fatte al momento giusto. Così! Così vi volevo! Ah! Scusatemi ragazzi per la capigliatura un poco così, però in questi giorni purtroppo va così. Mamma mia! Raga, io non dico che è stata la partita perfetta, è stata la partita giusta, la partita giusta! Io oggi, in live, mi hanno chiesto che ne pensavo della partita, ho detto se il Napoli mette la formazione iniziale giusta e continua nella prestazione per tutta la partita, il Napoli oggi può anche darci una sorpresa. Ed è arrivata questa sorpresa ragazzi perché oggi il Napoli non ha fatto cose assurde, non ha fatto le giocate ispirative della miglior specie, ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto un'azione buona, un tiro in porta buono sui tanti che abbiamo sprecato, un tiro in porta buono ed è entrato, però, però, dall'altro lato, la difesa è stata quasi perfetta. E dico quasi, perché contro questo Milan è davvero difficile ragazzi riuscire a non avere problemi in difesa. Cioè, veramente, il Milan sono delle frecce ragazzi, sono delle frecce umane. Cioè, Teo Hernandez che è una bestia, c'è Rebic che ragazzi è una bestia, lo stesso Brian Diaz, mamma quanti problemi ha creato verso il fine di gara. Lo stesso Castiglieco, ragazzi, ha delle saette viventi il Milan, anche i giocatori più fisici come Leao sono molto molto veloci e spazio con tutti alticelli, eh. A parte Diaz che è praticamente il giocatore più basso della Serie A, ma sono tutti alticelli e quindi è veramente difficile. Oggi ha dovuto fare una grande parata a spine, ha dovuto fare un grande intervento nel finale, Maximovic, per salvarci il culo. Ma la difesa oggi si è comportata benissimo, un grande Yusai, veramente Yusai non lo vedevo fare corse del genere sulla fascia. Cioè, non l'ho mai visto fare corse del genere sulla fascia, veramente. Fosse sempre così, Yusai sarebbe un top terzino europeo, invece niente. Però oggi veramente ragazzi, tutti bravi. Forse Fabian Ruiz un po' si è preso molti rischi in alcuni momenti, ma dai che lo perdoniamo. E Ozyman, bene, è entrato nel secondo tempo e ha fatto quello che doveva fare, ha mantenuto sempre il pallone, ha vinto tutti i duelli aerei con Tomori, e vi ho detto tutto, cioè se batti nel gioco aereo Tomori sei proprio un grande. Ha avuto pure una grande occasione con un tiro al volo bellissimo che è uscito di poco. Ecco, adesso parlando di Ozyman mi è venuto in mente il peggiore in campo del Napoli, che è stato Mertens. Mertens, per tutto il tempo in cui è stato in campo, è stato quasi nullo. Cioè, gli arrivava la palla ed era già tanto se si riusciva a girare e darla a qualcun altro. Quindi, veramente, Mertens, pessima prestazione, però a parte lui, veramente, insigne, ispirava. Lo stesso Elmas, quando è entrato, ha saputo mantenere il gioco, perché poi il Napoli si è chiuso tutto dietro, dopo il 75esimo circa. Quindi, veramente, è bene. Detto ciò, noi ci vediamo in prossimo video. Sempre, forza, Napoli questa vittoria. Era proprio quello che ci voleva. E adesso guardiamo avanti, perché c'è un'altra partita tostissima contro la Roma. Ci hanno rinviato quella là con la Juve, e ne ho parlato oggi in live. Quindi, ottima notizia. Abbiamo un'altra settimana per prepararci. E io voglio un Napoli così. Magari fosse un Napoli così in tutte le partite. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.